e si avete capito bene oggi tenteremo l'impossibile ovvero affilare la catena di una motosega con questo affare qua ovvero una specie di Dremel Parkside Lidl pagato la bellezza di no perché poi qua la gente pensa che io faccio video sponsorizzati che la Lidl mi paga che la Lidl mi manda le cose gratis invece no non mi inviano niente loro e infatti sono andato io di persona ad acquistare sta roba qua ovvero già che ero lì perché loro sono stronzi hanno di prezzi che c'è 15 euro sta roba qua ho detto te ma 15 euro fammelo provare tanto se ho buttato via 15 euro sono ancora al pirlola di prima e quindi ho detto proviamo vediamo se con questi aggeggini qua riesco ad affilare la catena o se è pure una cagata e in più oltre a quella roba lì mi son preso per fatti i miei personali sto set para ordinaria al meglio vabbè un set come potete ben vedere dove mettere tutte le vitine le cosine fighissimo magari dopo ve lo faccio vedere già che non c'entra niente col video però vabbè era carino a me piaceva e basta questo lo tengo per la garanzia che non si sa mai e si no perché qua la gente poi pensa che faccio i video sponsorizzati che mi no e quindi andiamo a vedere sto strumento polo misterioso è la confezione l'ho già aperta per ovviamente caricare sto cosa qua quindi ho già visto un po come cioè ho visto che c'è la usb c'è qua tecnologia assurda e poi boh ci sono dentro boh dischetti mandrini vari puntine varie e io penso appunto di utilizzare o questa o qualche altro aggeggioppolo per affilarla cioè poi non lo so può essere una grande cagata come magari una boh vedremo 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 vogliono te non ne ho mai avuto uno di sti così qua quindi non sapere fermi tutti fermi 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 allora questo qua serve per farlo andare ok 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 attimo è che qua secondo me sto spaccando su tutto dovrei averlo montato adesso devo capire un po come funziona il cembolo qua che così si è acceso qualcosa ok così regolo tipo penso la velocità noi partiamo da l'uno aspetta comba comba ok viaggia sto coso viaggia tantissimo no più aperto sto coso qua allora lo so che non c'entra niente con il video però vabbè siano tutti appassionati a queste cose quindi penso che vi interessi anche vedere sti cagatini qua sti oggettini qui per organizzare cioè io che sono un amante al fai da te nel costruire le cose queste qua sono bellissime però me ne rendo conto che non c'entra niente col video bello ci sta crino magari una volta installata a casa vi metto qua la foto ah ok sta registrando benvenuti l'infarto ho preso la motosega così facciamo un paio di tagli di test li cronometriamo e poi la filiamo almeno abbiamo un metodo di paragone del prima e del dopo se effettivamente la cosa funziona ci serve ovviamente un riscontro oggettivo ok come benvenuti ok taglio stortissimo e questo è un sintomo che la catena non è ben affilata anzi è mangiata completamente prendiamo in mano il nostro strumentopolo misterioso e vediamo se effettivamente funge o no rimette in mano i guanti prendiamo la nostra motosiga e vediamo se effettivamente funziona no 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 fermo fermo si sta svitando allora eh madonna allora qua mi sa si sta lavorando di più l'utensile del dente ma forse perché non è l'utensile fatto apposta cioè qua è già tutto smangiato quindi la risposta è no non funziona allora non voglio ovviamente screditare questo attrezzo che sicuramente per fare il suo mestiere cioè per quello con cui è stato concepito sicuramente il suo mestiere lo fa il mio è un test che qua ve lo dico già non ha funzionato per vari motivi allora uno cioè vari motivi che tutto riconducibile secondo me è una cosa all'utensile che poi viene montato sopra c'è sto cosino qua adesso ve lo svito questo qui questo secondo me non è adatto per alla lavorazione del ferro perché è possibile che dopo veramente non ho neanche affilato un dente se già praticamente smeradato tutto non è non è il suo diciamo però lui sto cosino qua va manetta quindi secondo me per fare altre tipologie di lavorazioni può anche andar bene cambiamo la punta mettiamone una un po più sensata per quello che ok prendiamo ad esempio la fetta che ho tagliato prima cioè visto provato a scrivere il nome del mio canale non ci sta tutto lui funge ci sta per fare non so i lavoretti le cose secondo me dovrei trovare secondo me l'utensile giusto che su internet secondo me ci sono quindi magari in un secondo episodio potremmo provare se riuscissi proprio a trovarne uno simile però fatto apposta per affilare le catene cioè ci starebbe anche questo cosino qua adesso comunque la catena devo affilarlo lo stesso perché così fa pietà mille anni dopo catena affilata io ste cinghie qua che sembrano quelle delle tapparelle smorzate mi fan cagare quindi Allora si può già vedere dei trucioli se una catena è affilata, giusto per rendervi conto. Ecco, quando vedete dei trucioli così lunghi, la catena vuol dire che è ben affilata, oltre ad avere un taglio molto più dritto rispetto a quello precedente. Adesso a occhio non so dirvi quanti secondi in meno ci ha impiegato, però è sensibile la differenza, cioè si percepisce. Ragazzi, io non so che dire, cioè vi ringrazio, io vi ringrazio per la visione, anche per la pazienza, pensavo che questo fare qua potesse funzionare, invece non ha funzionato per le mie esigenze. E vedremo in futuro, come ho detto prima, se riesco a reperire qualche utensile apposta adatto per la filatura, secondo me c'è qualcosa in giro. E vedo di procurarmeli, così almeno diamo un senso a questo trezzino qua, che ok, che ho speso 15 euro, quindi non stiamo parlando di un'operazione fallimentare. Però comunque mi spiace, cioè ci sta a valorizzarlo e farlo andare come si deve. Io e la mia mozzosega vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale, così da supportare il tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.